Un boato? Un boato, sì, boato è la misura dell'epicentro perfetto, perché chi sente il boato è proprio lì dove avviene la scossa. E quindi io in quel momento ero all'olmo e ho sentito molto bene il boato e era già chiaro che l'epicentro sarebbe stato lì. Un forte boato questa mattina attorno alle 9.20 ha scosso la città di Arezzo. E' stato infatti registrato un terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro ad Olmo, alle porte della città. I terremoti degli ultimi 20 anni ad Arezzo, quindi due a Palazzo del Piero. E qui all'olmo c'è sempre sottolineano, ogni tanto c'è qualche scossettino. Perché c'è una, probabilmente c'è una falla come terminazione della Val di Chiana, che ogni tanto si muove, ma pochissimo. E quindi non fa parte del sistema delle falli attive nell'Apenino e quindi è un evento, un fenomeno abbastanza isolato. La scossa, accompagnata da un forte boato, è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Tante le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, ma fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. E si è sentito soprattutto quando uno sta in casa, perché sente vibrare i vetri. Quando uno sta fuori magari non l'ha nemmeno avvertito. Perché la profondità è molto poca, siamo nella costa superiore, 7-8 km, e questo si avverte bene quando uno sta sul posto. Ma per esempio se uno va a Palazzo del Piero, a Capolone, ma anche parte di Arezzo, non l'hanno più sentito. Un'altra scossa si era verificata lo scorso martedì a Caprese Michelangelo alle 19.52 di magnitudo 2.7.